Una nuova iniziativa organizzata dall'Associazione Cultura Nazionale, adesso si parlerà di Papa Francesco. Sì, sabato prossimo, sabato 27 alle ore 17 alla locanda di San Pierpiccolo al Teatro Dal Bicchieraia si terrà un grande evento, l'evento di presentazione del libro di Francesco e noi, di Francesco Antonioli, il dottor Francesco Antonioli, giornalista del Sole 24 ore, che viene a illustrarci la figura di Papa Francesco vista da 50 personalità importanti dello spettacolo e della cultura che hanno avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco. Papa Francesco è una figura importante che divide anche ideologicamente e religiosamente una figura che verrà sviscerata in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue testimonianze. Il grande Francesco Antonioli viene da noi e il giornalista di punta del Sole 24 ore viene a illustrare questo libro che è già campione di vendite e modera l'incontro del dottor Fabio Brei e ci sarà, come dire, vi aspettiamo tutti perché sarà, come dire, un grande evento di cultura e di approfondimento anche su una figura importante e fondamentale come quella di Papa Francesco. Ecco, perché avete scelto questa figura per questo appuntamento? Perché Papa Francesco rappresenta sostanzialmente la cultura nazionale, è quello che, come dire, con quello di cui lui parla, divide e unisce la politica, la cultura, la religione, quindi sta dando un'impronta importante a quello che è la cultura in Italia, ma non solo in Italia, nel mondo, quindi un approfondimento doveroso e importante anche su una figura che, come dire, non tutti, molte volte siamo d'accordo con lui, ma credo che sarà importante interrogarci sulla sua figura. Grazie.